Siamo sempre più rivolti come azienda a aspetti di sostenibilità. Quindi noi cerchiamo di consigliare ai nostri clienti quei prodotti che hanno un impatto ambientale minore, perché riteniamo che tutti abbiamo il dovere in questo mondo di preservare l'ambiente e di essere più sostenibili. Credo che una delle prossime certificazioni che cercheremo di acquisire sarà quella relativa alla sostenibilità del nostro ciclo produttivo e delle nostre attività lavorative.